Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video degli AFX Mordex E volevo dirvi che siamo tornati dopo come al solito problemi tecnici Ma siamo tornati con una nuova felpa degli AFX Mordex ricevuta a Natale E il cappello degli AFX Mordex Con il simbolo In questo video andremo a parlare della nuova saga di... Anzi, della saga che ormai è già finita Di Dragon Ball Super Moro E poi appena usciranno i primi episodi della nuova saga Che ho già visto e che vi farò vedere in un prossimo video E niente, adesso vi leggerò la trama In breve Della saga di Moro Siamo nel Dragon Ball Wiki dove leggerò la saga del prigioniero della pattuglia galattica Cioè, questo è il titolo Dragon Ball Wiki, adesso c'è Goku e Vegeta Poi Moro, che qua è scritto Molo Quindi, vi sto già anticipando che si scrive Molo Adesso... Ok, trama E i miei figli che avvengono colpiti con una pistola stordente Sì, sono Goku e Vegeta con il simbolo della pattuglia galattica Visto c'è pure scritto Mers racconta i due Saiyan della battaglia Sì, due Saiyan della battaglia Voltasi circa 10 milioni di anni fa Tra Molo, il Kaioshin del Sud E il Grande Kaioshin E come quest'ultimo lo sconfisse In seguito, Moro venne Incarcerato dalla pattuglia galattica Son Goku e Vegeta vengono invitati dal re della Via Lattea Ad unirsi alla pattuglia galattica Dopo aver ricevuto l'incarico I due Saiyan si recano in missione con Merus E Jaco ed Irico Sul pianeta Yang Alla ricerca di una banda di banditi Dopo aver visto in azione Merus Ed arrestati i banditi Son Goku si concentra per individuare il chi di Moro Dopo aver individuato lo stregone Son Goku rimane sconvolto Vegeta contro Moro Questo non è un ameciano Vegeta salva un giovane ameciano Vegeta prova anche lui a localizzarlo Ma viene fermato da Son Goku Che gli spiega come Moro Si sia accorto di essere stato localizzato Inoltre Son Goku spiega ai compagni come il chi di Moro Non sia particolarmente potente Ma che contiene il chi di tutte le creature A cui ha assorbito l'energia vitale Son Goku Costituisce che Moro si stia dirigendo verso il pianeta Neo Namek Così decide di teletrasportarsi con Vegeta sul pianeta dei naveciani Nel frattempo Moro che sta viaggiando su una navicella pilotata da Cranberry Non lo so leggere Scrivetevi nei commenti come si pronuncia normalmente Fuggito anche lui dalla prigione galattica Parlano delle sfere del drago di Namek Eeeh questa Già mi piace Sferla il drago Roba buona Arrivati poco prima dell'arrivo di Moro Su Neo Namek I Saiyan avvisano i naveciani del pericolo Invitandoli ad allontanarsi Nel frattempo la navicella di Moro Atterra sul pianeta Merus stupito dalla scelta dei Saiyan Decide con Iaco di rientrare alla base Convinto che l'unico modo per sconfiggere Moro Sia con l'aiuto di Majin Buu Sul pianeta Neo Namek Dopo un breve confronto tra lo stregone e i due Saiyan Inizia lo scontro tra Moro e Vegeta Quest'ultimo attacca prima Quest'ultimo Prima attacca lo stregone trasformato in Super Saiyan Per poi ritrasformarsi in Super Saiyan God Moro risponde agli attacchi del Saiyan Ricorrendo alla sua magia Questo è Vegeta God contro Moro Sembra Vegeta Super Saiyan Blu colpisce Moro Ok Ed è diventato blu Ok ragazzoli Noi ci fermiamo fino a questo punto E nel prossimo episodio della saga di Moro Andremo a continuare la storia Cioè la trama Oh 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 Grazie.